movimento movimento dietro vi vedete dietro dietro vi vedete stop movimento stop azione musica no da capo da lì vabbè vai 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 guarda in alto questa è la storia d'una nota una nota stonata commessa agli aspettati soltanto d'essere raccontata come bisogni e parenti come un cazzotto sui denti come una cosa sensata e mezzare in delice veloci 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 non 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 era un tizio alla tele che ti racconta palle non era un pentito in galera si trova dalla mela era un'andola contonata che uscì dalla sua guarda, c'è Pietro stia là e tizio allora cambierà